Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi, io sono Dunia e sono qui oggi con delle letture che risponderanno alla domanda realizzerò il mio progetto. Il tema di questa lettura è stato suggerito da uno di voi, da Daniela. Quando parliamo di progetto non parliamo di un progetto lavorativo, si può trattare di un progetto creativo, si può trattare di un qualsiasi progetto su cui stiate lavorando in questo momento, per il progetto si può intendere anche un viaggio, si può intendere un progetto di relazione, si può intendere anche un matrimonio per esempio, il progetto di sposarsi, o magari per alcuni di voi il progetto riguarda l'abitazione, magari avete un progetto di comprare una nuova casa o di trasferirvi. Oggi avete la possibilità di scegliere tra tre diverse letture, la prima lettura è contrassegnata dal colore azzurro e dalla carta che dice verità, la seconda lettura è contrassegnata dal colore giallo e dalla carta che dice potere personale e la terza lettura è dalla carta lilla che dice abilità psichiche. Prima di fare la vostra scelta centratevi e radicatevi bene, fate dei respiri profondi, allontanate i pensieri dalla mente e poi quando siete pronti con i vostri tempi scegliete la carta che intuitivamente richiama di più la vostra attenzione. Una volta fatta la vostra scelta potete andare velocemente a guardare ad ascoltare la vostra lettura utilizzando la leggenda che vi comparirà come primo mio commento sotto questo video. Aggiungo brevemente per chi fosse interessato a fare un consulto con me che è possibile prenotare un consulto direttamente dal mio sito www.artistodivination.com. E questo è tutto, grazie per l'attenzione e noi ci vediamo prestissimo, buona lettura e buon proseguimento. Eccoci qui con la prima lettura, quella contrassegnata dal colore azzurro e dalla carta che dice verità. Allora oggi prenderemo tre carte da questo mazzo di tarocchi e poi useremo anche i charms. Andremo a vedere se realizzerete il vostro progetto. Allora qui abbiamo un asso di denari, un cinque di denari e un re di coppe. Dunque, il cuore del vostro progetto è nel posto giusto. C'è un problema di fondi. Quindi non mi meraviglierei se alcuni di voi non avessero la disponibilità economica per realizzare il progetto su cui stanno lavorando. Le premesse sono buone. L'idea è buona con un asso di denari, però questo cinque di denari vi dice che chiaramente è necessario attingere da un'altra fonte o è necessario in questo momento posticipare la realizzazione di questo progetto. Perché l'idea è buona, è un qualcosa che vi piace, è un qualcosa che può funzionare per voi, ma chiaramente ci sono delle difficoltà economiche. Andiamo a vedere adesso cosa ci dicono i charms in relazione a questo. Allora, per alcuni di voi questo progetto riguarda un'altra città, un altro stato, probabilmente riguarda un investire lontano. Quindi magari si può trattare o di un progetto lavorativo, anche di un progetto creativo, addirittura di un vero e proprio viaggio in un altro paese. Però è come se vi mancasse in questo momento un'immagine più ampia di quello che è il vostro progetto. Il punto di partenza è buono, l'idea è buona, è un qualcosa su cui potete investire sul lungo termine, ma ancora avete bisogno di vedere la cosa da una prospettiva più ampia. Allora, qui abbiamo la maschera capovolta, che ci dice che ancora c'è un qualcosa che non volete vedere rispetto al vostro progetto. Ci sono dei dettagli, e non è un caso che sia finita chiaramente sul cinque di denari, ci sono dei dettagli che ancora non volete vedere in questo momento. E non è un caso che ci sia il dromedario. È come se doveste veramente attingere da altre risorse, perché magari in questo momento siete focalizzati sull'idea. Il punto di partenza è buono, ma non state valutando in modo onesto quello di cui avete realmente bisogno per realizzare il vostro progetto. Anche il sole capovolto ci dice che c'è una mancanza di adeguata energia, di carburante, per portare avanti il progetto. Quindi secondo me dovete trovare un modo per far entrare le risorse in questo momento per dare il via al processo di realizzazione. notiamo anche come qui sulla carta, sul numero 1, sulla carta blu, si è uscito il teschio. E questa carta dice verità. C'è una nuova verità da vedere rispetto alla vostra idea. È come se non vedeste completamente tutti i pezzi del puzzle che vi servono per realizzare un'immagine su cui state lavorando. Vi servono altri dettagli, vi servono altre informazioni, vi servono altri mezzi. È necessario trasformare l'approccio al vostro progetto. E mi viene da dire, anche con gli elefanti qui, che se potete chiedere a qualcuno che ha più esperienza di voi, vi sarebbe d'aiuto, vi sarebbe d'aiuto chiedere consiglio a qualcuno che ha più esperienza, a qualcuno che ha già fatto quello che volete fare voi. Notare che qui è uscito un 6 sul dado. Di nuovo, le risorse economiche. Manca la materia per realizzare il progetto. Ecco perché dovete chiedere consiglio o sostegno. Qui abbiamo un altro teschio, quindi abbiamo due teschi. E di nuovo ritorna il discorso di un dover trasformare un qualcosa di questo progetto per poterlo trasformare, anche per evitare che rimanga semplicemente un sogno. Se questo è un sogno, deve diventare realtà. E quindi è necessario rendere il sogno più pratico, concreto. Tra l'altro, qui c'è un leone, avete bisogno di coraggio e determinazione. Le tempistiche, secondo me, non sono giuste. Ho la sensazione che non è ancora il vostro turno, non è ancora la mano di giocare. Non è ancora la mano giusta per giocare. Come se doveste risistemare questo 5 di denari per dare il via alla realizzazione dei vostri sogni. Qui Questo charm ci dice Tra l'altro che non vi state proteggendo, quindi non è questo il momento per rischiare. L'idea è buona Ma solo quando vi sentite realmente pronti e protetti Potete concretamente realizzare il vostro progetto Vi direi di proteggervi da azioni impulsive Le cose vanno pensate bene, vanno organizzate bene E dovete parlare con qualcuno, questo è un cappello Dovete parlare con qualcuno delle vostre preoccupazioni Perché secondo me, confrontandovi con qualcuno che ha più esperienza Riuscirete anche a capire in che direzione andare E che tempistiche dare al vostro progetto Quindi per concludere direi che l'idea è buona Il vostro sogno è realizzabile Le tempistiche non sono quelle giuste E dovete in un certo senso riprogrammare i vostri mezzi e le vostre risorse Chiedere consiglio sicuramente vi può essere d'aiuto Fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate in questa lettura Io chiaramente vi auguro tutto il meglio per il vostro progetto Noi ci vediamo prestissimo Ed eccoci con la seconda lettura Quella contrassegnata dal colore giallo E dà il potere personale Dice questa carta Tra l'altro il terzo chakra Allora io adesso mescolerò bene le carte E selezionerò tre carte E poi utilizzeremo anche i charms Andiamo a vedere Se realizzerete il vostro progetto No, troppe Uh, queste ce le teniamo Allora l'energia è buona L'energia è buona Notiamo quanto giallo c'è in questa lettura Questa è interessante Dipende molto da voi la realizzazione del vostro progetto Terzo chakra Ci vuole un ego, ma ego in modo positivo Un ego forte Ci vuole volontà e determinazione per realizzare questo progetto In un certo senso vi dovete venire in aiuto da soli Le tempistiche sono lente Del vostro progetto Ma sono sicure Sono sicure Ci sono anche delle cose Che dovranno accadere Quindi in un certo senso dovete avere pazienza È come se dovessero accadere altre cose intorno a voi Che vi permetteranno la realizzazione del vostro progetto Potete investire Potete investire decisamente Anche economicamente Giustizia perché c'è la possibilità Di riavere indietro esattamente quello che investite Se non di più È un progetto equilibrato Quindi è un progetto che obiettivamente vi può dare un ritorno 10 denari al centro è una bellissima carta Perché in un certo senso è la carta di massima realizzazione Per quanto riguarda il lavoro O anche un progetto creativo Ma in generale rispetto al vostro progetto C'è un potenziale di massima realizzazione Andiamo a vedere cosa hanno da aggiungere i charms Allora questa è una bussola Forse l'obiettivo Ecco deve essere un po' più chiara La direzione del vostro progetto Faccio degli esempi Magari state pensando di trasferirvi O state pensando di investire all'estero O in un'altra città Ecco cercate di definire bene il vostro obiettivo In modo concreto e pratico Perché alcune direzioni Alcuni obiettivi Chiaramente saranno per voi Più validi di altri Per quanto vi vedo come dei leader del vostro progetto Sento che questo progetto dipende anche da altre persone Per molti si tratterà di un progetto familiare Magari è un qualcosa che state realizzando con la famiglia O con un partner O con una squadra Mi viene da dire una squadra di persone Che hanno un po' l'energia di una grande famiglia Quindi vi vedo come dei leader Però di fondo ci sono delle decisioni da prendere insieme con altre persone Le cose vi verranno un po' in aiuto Le circostanze vi verranno un po' in aiuto Siete un po' aiutati Il che è un bene Quindi qualunque ostacolo vi troviate a affrontare nel vostro cammino Vi vedo ben protetti e vi vedo aiutati C'è una componente qua magica, importante Come se ci fossero quasi dei guardiani Che vi vengono in aiuto e proteggono il vostro progetto Magari siete alla ricerca di qualcuno Che possa investire nel vostro progetto Ecco Qui ci sono tutte le condizioni C'è l'energia giusta per trovare una persona Che vi viene in aiuto Per trovare una persona che in qualche modo Investa in quello che state facendo In quello che state progettando Tra l'altro a parte qualche piccola difficoltà In fase iniziale non vedo Qui ci sono diversi charms di protezione Vi vedo protetti Sul lungo termine Potrebbe essere che proprio questa persona Che investe nel progetto In qualche modo protegge il vostro progetto Potrebbe essere in alcuni casi Che siate proprio energeticamente protetti Rispetto ai rischi Che affronterete Ma comunque vedo ostacoli piccoli E soltanto in fase iniziale Non vedo niente di Difficile o niente di ostile Anzi secondo me Nel percorso di realizzazione del vostro progetto Avrete diverse tappe da festeggiare Vi ritroverete a festeggiare più volte E non vi vedo da soli Ho la sensazione che Questo progetto anche se parte in piccolo Anche se parte con due o tre persone Si può allargare La mia sensazione è che può diventare Un qualcosa di molto grande La carta potere personale Ci dice che dovete attingere Dal vostro potere personale Dalla vostra energia Al tempo stesso Col passare del tempo Acquisirete più potere E più energia Quindi questo è un progetto Che vi dà potere In un certo senso Sul lungo termine È tra l'altro Un progetto Che non solo coinvolge altre persone Ma vi dà la possibilità Lo dico così Di salvare ed aiutare Altre persone Ora trovo molto interessante Che sia uscita la carta E la giustizia E accanto è uscito Lo stemma della polizia Per alcuni di voi Questo è un progetto Che porta giustizia Nella vita degli altri Non mi stupirei Se per alcuni di voi Il progetto riguardasse Un'organizzazione di volontariato Un'organizzazione Che in qualche modo Si mette al servizio degli altri C'è un'energia molto forte Di giustizia E di riscatto Quindi se il vostro progetto È un progetto umanitario È un progetto su larga scala Avete non solo l'idea giusta Ma col tempo Avrete i mezzi E i fondi giusti Per realizzarlo E anche la giusta sensibilità Con questo 5 Sopra la giustizia La mia sensazione È che questo progetto Va a risolvere Dei conflitti Delle tensioni Magari per alcuni di voi Risolverà delle tensioni E dei conflitti All'interno della vostra vita Ma per altri Questo progetto risolverà Delle problematiche Più su larga scala Non è un progetto Che si realizza in poco tempo Questo è un progetto Che Ha del potenziale duraturo Nel tempo Ma è un progetto Che richiede tanta pazienza Quindi armatevi veramente Di pazienza E determinazione Perché è un po' come un albero State seminando Per far crescere un albero Che cresce molto lentamente Ma ha il potenziale Di diventare enorme E ha il potenziale Anche di Andare in diverse direzioni No? Come un po' come i rami di un albero Ha il potenziale Di arrivare lontano E di diramarsi Ancora di più Insisto sul fatto Che siete protetti E che vi potete muovere Con scioltezza Non esitate Soprattutto nella fase iniziale Qui ci potrebbero essere Anche progetti Che riguardano la natura O che riguardano Organizzazioni Che si preoccupano Della cura E della protezione Degli animali C'è un po' qui In questa lettura Il profilo Degli eroi Dei salvatori Delle persone Che combattono Per una causa Più grande Quindi mi viene da dirvi Qualunque sia Il vostro progetto Preparatevi Perché quello Che iniziate È soltanto Un piccolo passo Di un qualcosa Che diventerà enorme E non mi stupirei Se tra qualche anno Vi ritrovaste A Essere I leader Di un'impresa Enorme Che coinvolge Veramente Tante persone Fatemi sapere Nei commenti Se vi ritrovate In questa lettura Io chiaramente Vi auguro Tutto il meglio Noi ci vediamo Prestissimo Buon proseguimento Ed eccoci qui Con la terza lettura Per chi ha scelto Il colore Lilla Questa carta Dice Abilità Psichiche Allora Io ho intenzione Di tirare Tre carte Da questo mazzo I tarocchi E poi utilizzeremo Anche i charms Ed ecco la prima Carta per voi La stella Regina di bastoni E il cavaliere di coppia Dunque Qui ci sono Le persone Che hanno Un grande sogno Un grande sogno Una grande visione Ma è ancora Molto in fase iniziale È un'idea È soltanto Un'idea E sospetto Che per molti Di voi Sia un'idea Ancora lontana Mi piacerebbe Che un giorno Mi piacerebbe Fare questa cosa La sento così È un qualcosa Nel Nel lontano futuro Però Vi dico una cosa Se consideriamo Il fatto che è uscita Qui la carta Abilità Psichiche È obiettivamente Un'idea Che si può Realizzare In un lontano futuro Quindi è come Se voi In questo momento Avete un'intuizione Rispetto a un qualcosa Che può accadere Realmente Solo che ancora Non avete capito Come Non avete capito Cosa Non avete capito I dettagli Ma la vostra È un'ottima Intuizione Non possiamo Non notare Il fatto che ci sia Una regina di bastoni Al centro Che è un'energia Molto creativa Accompagnata Il cavaliere di coppa È un'energia Creativa È un'energia Da artista È un'energia Da sognatori Da idealisti Anche Per molti Qui si tratta Di un progetto creativo Probabilmente Anche una gravidanza Qui vi dicono Quindi magari Qualcuno di voi Sogna di diventare madre O qualcuno di voi Sogna di diventare padre C'è anche questa possibilità Quindi viene visto Come un qualcosa Di lontano Ma come se fosse Un grande desiderio Andiamo a vedere Cos'hanno ad aggiungere I charms Tantissimi Allora Dunque Per realizzare Il vostro progetto La vostra idea Qui le forbici Ci dicono Che è necessario Lasciare andare Un qualcosa E lo sapete E lo sapete Sapete che è la cosa Giusta da fare C'è un legame Con il passato Qualunque sia La vostra idea C'è un legame Con il passato Che non vi aiuta E sicuramente Deve essere lasciato andare C'è un passato Da esorcizzare Quindi magari Anche se si trattasse Di un progetto creativo Forse se state lavorando Su una vecchia idea Magari quella idea Va messa da parte O c'è la necessità Di lasciare andare Un vecchio modo Di lavorare Oppure se sognate Per esempio Una relazione O se qui si tratta Di un progetto Di maternità Di paternità C'è il bisogno Di lasciare andare Un vecchio modo Di pensare Magari delle vecchie paure Delle vecchie dinamiche C'è un qualcosa Di nobile Rispetto alla vostra idea C'è un'erogia nobile Come se fosse un'idea nobile Un qualcosa Che vi è caro Un'idea che vi è cara Ma che ha Un senso profondo Di giustizia Qui mi dicono Tra l'altro Qui abbiamo un albero Abbiamo una cornice Abbiamo la tigre Ci sono degli aspetti Della vostra famiglia Della famiglia di origine Che vanno riorganizzati Potrebbe essere Per alcuni di voi Che c'è la necessità Di lasciare andare Dei legami Poco sani Con la famiglia Che non significa Non vedere più i familiari Ma magari semplicemente Rimettere in ordine Dei legami familiari O creare dei sani confini C'è la necessità Di creare dei sani confini Famiglia non è solo La famiglia di appartenenza Per voi è importante Considerare il fatto Che magari famiglia Il concetto di famiglia Può essere un qualcosa Di allargato Potete crearvi La vostra famiglia Questo è un messaggio Che sarà utile Per alcuni di voi E potrebbe essere In alcuni casi Che la famiglia Di appartenenza Sia un po' Un freno Ecco perché È necessario Tagliare dei legami O perlomeno Trasformare dei legami Avete tantissima energia Con la regina Di bastoni Qui c'è un canguro Avete tantissima energia È importante per voi Focalizzare bene La vostra energia Sulla vostra visione Per evitare Di essere dispersivi Magari siete persone Che hanno tante idee E questa idea Vi è cara Ma ne avete altre E magari cercate Di realizzare Tutte queste idee Insieme Qui i charms Vi dicono Se proprio Volete realizzare Queste idee È necessario Focalizzare La vostra attenzione La vostra energia Esclusivamente Su questa idea Qui c'è un riferimento Alla Francia Potrebbe essere Un messaggio Solo per uno o due Di voi Però la Francia Magari è un segno Che vi serve La Francia Parigi Per alcuni di voi Sarà molto significativo Magari il progetto Riguarda un progetto Di viaggi O riguarda un progetto Creativo Da realizzare a Parigi O la visibilità Che cercate Avverrà a Parigi O magari Se si tratta Di un progetto Relazionale Ha a che fare Con una persona Che sta a Parigi Ma comunque Per alcuni di voi La Francia È importante Mi arrivano altri due messaggi Uno riguarda La maternità Mi ritorna forte Quindi È importante Che io lo sottolinei Sì C'è qui del potenziale Per essere madri C'è del potenziale Per avere dei figli C'è del potenziale Per Una gravidanza Magari questo sarà un messaggio Per poche persone Però è molto forte E poi c'è un altro messaggio Questo è molto specifico Per chi si occupa di Ultimamente ritorna spesso La moda Per chi si occupa di moda Qui c'è il potenziale Per realizzare Un progetto Che riguarda Che riguarda La moda In particolare Quindi non so Adesso Magari ci saranno Degli stilisti Degli aspiranti stilisti O ci saranno persone Che lavorano Nel campo della moda La vostra visione È È valida È giusta Il vostro sogno Ha obiettivamente Del potenziale Forse non Nell'immediato Più In un futuro Distante Ma Ha del gran potenziale Si tratta In un certo senso Di condensare La propria voce E la propria visione In un unico canale Come se doveste concentrare La vostra energia In un unico punto Il 5 qui del dado Sulla regina di bastoni Ci dice Che non ci sono reali ostacoli L'unico reale ostacolo È L'inattività Quindi se non agite Verso il vostro obiettivo L'unico vero ostacolo Potrebbe essere Se non fate i giusti passi Nella direzione Che vi siete dati È interessante Che qui ci siano le chiavi Accanto alle chiavi C'è un castello Qui c'è veramente Anche qui Il potenziale Di partire in piccolo Non nell'immediato Perché vi ripeto Questa è un'energia Lontana nel futuro Però C'è il potenziale Di un Come di investire In un'azienda In un qualcosa Ecco perché Secondo me La moda Ritorna La casa di moda C'è il potenziale Secondo me Alcune persone Magari stanno Vogliono mettere In piedi Il loro business Il loro brand O magari Stanno investendo In dei prodotti Ecco C'è il potenziale Per nel tempo Costruire Un qualcosa Di grande Quindi direi Che la vostra Visione è giusta Il potenziale Per realizzare Il vostro progetto C'è Ma è ancora È ancora Un'idea Questo è l'unico L'unico problema È ancora un'idea Se ci credete veramente E ci investite In modo onesto Dell'energia Il potenziale Di realizzazione Di realizzazione è enorme Non ci sono grandi ostacoli Anzi Avete Siete lungimiranti Avete la capacità Di vedere lontano E avete anche Tanta energia Però ricordiamoci Però ricordiamoci di quel 5 sul dado L'importante è che Agiate sempre Che non vi blocchiate Ma che facciate Ma che facciate sempre Delle piccole azioni Verso il raggiungimento Di quello che volete Cioè potenzialmente Gli unici boicottatori Siete voi stessi Ma non ci sono Dei reali ostacoli Cioè tra l'altro Molta un'energia Da favola Devo dire Qui abbiamo un mago Qui abbiamo le scarpette rosse Qui c'è un lupo Che ulula Verso la luna Per voi Un po' il vostro sogno È come una grande favola Ma qui Vi dicono che E qui abbiamo anche il castello Ci sono tutte le componenti Giuste per mettere insieme Una favola Per raccontare una favola È possibile raccontare Questa favola Si tratta di Investirci Semplicemente Dell'energia Con determinazione Quindi Realizzerete il vostro progetto? Sì In un certo senso sì Ma Dovete iniziare A lavorarci sopra Spero che questo messaggio Vi sia utile Fatemi sapere nei commenti Se vi ritrovate In questa lettura Io vi auguro Tutto il meglio Noi ci vediamo prestissimo Buon proseguimento Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo